Il dessert è la fine del pasto, quindi è il momento che più viene ricordato e serve a coronare comunque una cena o un pranzo straordinario. Di conseguenza per uno chef è importantissimo conoscere tutte le tecniche della pasticceria per portare a tavola poi dei dolci che mantengono lo stesso livello dei pasti serviti. Tutti quelli che sono gli elementi cardine come rispetto degli ingredienti, della tecnica, della tecnologia e della conoscenza delle ricette devono essere approfonditi e soprattutto essere realizzati in maniera impeccabile perché la pasticceria non permette errori. La pasticceria Amignan è la firma della pasticceria italiana, nasce in Italia, noi la promuoniamo moltissimo e è positiva perché comunque ci permette di assaggiare più cose insieme. La parte estetica è fondamentale perché comunque è quella che invoglia all'assaggio, di conseguenza è molto importante poterli curare in maniera approfondita per fare in modo che si mangi prima un attimino con gli occhi e poi con l'assaggio vero e proprio. Grazie a tutti.